Grazie. Silvia Bertini. Io sono Silvia Bertini, sono sociologa, mi occupo da tanti anni di ricerca sul territorio e ho accettato di candidarmi con molto molto piacere perché sono sempre stata legata al quartiere Santo Stefano. Già nel 2001 feci questa ricerca commissionata dal quartiere proprio sul disagio sommerso, sul disagio che c'è dietro ogni persona considerata nella normalità. Vennero fuori dei risultati un po' inquietanti per allora. Oggi gli anni sono passati, ci siamo resi conto che i bisogni delle persone, di qualsiasi tipologia di persone, hanno bisogno di risposte molto rapide. Hanno bisogno di persone che si facciano interlocutori di quello che è l'organismo più vicino al territorio. Il quartiere Santo Stefano da sempre rappresenta un'eccellenza e noi ci proponiamo proprio per facilitare questa interazione, questa risposta ai bisogni sul territorio in una logica però diversa da quella attuale. La sfida è molto molto intensa, ampia e ci chiede tante tante energie e consapevolezza. Noi vogliamo essere trasparenti e porci nell'immediatezza di questi bisogni dove qualsiasi tipo di persona sappia dove andare, sia che abbia bisogni individuali, familiari e che appartenga alle associazioni, ai gruppi, a tutti i gruppi. Ricordo che per queste elezioni è possibile dare due preferenze, maschio e femmina, proprio perché sia così più facile rappresentare tutti i bisogni. Quindi mi raccomando, scegliete bene le persone che vi possano rappresentare. Grazie.